Cosa è la larva currens? Il cari della larva, anche chiamato strongiloidiasis cutaneo, è una condizione della pelle pruriginosa che è innescata dall'infezione da un verme parassitario chiamato strongiloides tercoralis. Per questo motivo, i cari di larva sono a volte indicati come strongiloidosi. Il termine larva currens, tuttavia, è più specifico e in definitiva una descrizione più accurata della condizione, in quanto il parassita infetta durante la sua fase larvale. La malattia fu identificata per la prima volta nel 1926. La condizione si chiama larva currens perché identifica la variante del verme quando provoca il disturbo nella fase immatura o larvale dello sviluppo. È anche caratterizzato dalla migrazione delle larve, scavando in profondità nel tessuto creando lesioni lineari filiformi. Chiamata anche strongiloidiasis cutanea, la larva currens è classificata come una condizione cutanea, il che significa che coinvolge l'infezione della pelle. Episodi di correnti di larva si verificano per un numero di ore, senza sintomi per settimane o mesi alla volta. In alcuni casi, appare non molto tempo dopo che strongiloides tercoralis causa l'infezione. In altri, potrebbe manifestarsi molto più tardi, anni dopo che l'infezione sia verificata. Le correnti di larva sono il risultato di un'auto-infezione, il che significa che l'infezione è causata dal contatto diretto con le larve. Una causa comune è camminare a piedi nudi sul terreno con i vermi infetti. Questo tipo di infezione assicura che gli episodi riappaiono nel corso di diversi anni. Le persone con un sistema immunitario indebolito o difettoso possono morire a causa di una sindrome da iparinfezione. Il trattamento standard per le larve è la terapia antielmintica, che coinvolge farmaci che liberano i vermi parassiti. Esempi di farmaci antielmintici comprendono ivermectina, albendazolo e tiabendazolo. La ciclosporina, o ciclosporina A, un farmaco usato per sopprimere il sistema immunitario dopo il trapianto di organi, è stata anche utilizzata a causa delle sue proprietà antielmintici. In caso di infezione batterica, potrebbero essere applicati anche antibiotici. L'obiettivo del trattamento per le larve è quello di porre fine all'infezione ed evitare complicazioni. Il follow-up sulle larve currents prevede l'esame delle feci del paziente in intervalli di 2-3 mesi per assicurarsi che i vermi siano completamente spariti o per monitorare la risposta terapeutica. Questo campionamento seriale viene eseguito circa da 4 a 8 mesi dopo il completamento della terapia antielmintica. La bassa insorgenza dei parassiti o l'eradicazione totale si ottiene in genere tra 6 e 18 mesi dopo la conclusione del trattamento. Se i vermi persistono, tuttavia, potrebbe essere necessario un ulteriore trattamento.